che abbiamo tempo solo fino alle 19. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Io sono Francesca, sono una praticante avvocato volontaria della sede di Bologna di Avvocato di Strada. Per chi non conoscesse Avvocato di Strada o comunque non avesse partecipato ai precedenti incontri, Avvocato di Strada è un'organizzazione di volontariato nata vent'anni fa a Bologna e che adesso è presente su 55 città italiane e conta più o meno mille volontari. La mission, diciamo, di Avvocato di Strada è quella di offrire tutela legale gratuita alle persone senza dimora e con gratuita intendiamo che naturalmente i nostri assistiti non pagano per il servizio che viene loro offerto e parallelamente gli Avvocati non ricevono alcuna forma di compenso per l'attività che svolgono perché appunto si tratta di volontariato. Tutte le spese vengono quindi sostenute dall'associazione. Su questo punto mi soffermo un attimino perché l'altra volta ha creato un po' di questione tra i partecipanti perché è verissimo che in Italia esiste l'istituto del patrocinio a spese dello Stato per cui se un nostro assistito viene ammesso non ci sono le spese vive da pagare. Però ci sono tante spese che si presentano fuori dall'attività giudiziale vera e propria in un procedimento. Pensiamo ad esempio per rimanere nel campo immigrazione al costo che hanno i permessi di soggiorno. Quando si invia un kit postale si sostengono delle spese e in quel caso non c'è il patrocinio a spese dello Stato e se si tratta di un nostro assistito è l'associazione a sostenere questi costi. Tutto questo lo diciamo perché vorremmo a chi avesse piacere di sostenerci attraverso una donazione o l'acquisto dei gadget nel nostro shop solidale e operazioni che sono facilmente eseguibili dal nostro sito www.avvocatodistrada.it. Per quanto riguarda invece più nello specifico questo corso di formazione abbiamo deciso di organizzarlo per sopperire a un'esigenza innanzitutto interna dell'associazione perché in questi anni si sono moltiplicate le persone senza dimora straniere e di conseguenza si sono moltiplicate le richieste ai nostri sportelli di questioni inerenti l'ingresso e il soggiorno dello straniero sul territorio italiano. Purtroppo non tutti i nostri volontari sono esperti in materia e quindi abbiamo deciso di chiedere ad alcuni nostri volontari ma anche a gente di fuori che invece ha competenza e esperienza in questo ambito di tenere queste lezioni per dare almeno i rudimenti della materia a tutti i volontari. Poi dal momento che è un anno che si tengono tutti gli incontri, webinar, formazioni online abbiamo pensato che era una bella idea aprirlo a tutti in modo che chiunque fosse interessato potesse partecipare. Do due informazioni tecniche che vengono solitamente chieste, è stato chiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale Forense ma ancora non abbiamo ricevuto una risposta ufficiale, confidiamo che arriverà presto però ancora non sappiamo niente e per quanto riguarda invece l'attestato di partecipazione può essere richiesto da chiunque abbia seguito questo ciclo di incontri che si sia avvocati, praticanti, terzi però la domanda ce la dovete inviare quando il ciclo di incontri finirà quindi dopo il 29 aprile. Detto questo io mi taccio e passo la parola all'avvocato Eugenia Baroneadesi del Foro di Roma che ci illustrerà una tematica molto ampia e vediamo cosa riusciamo a fare in un'ora. Grazie mille. Grazie mille e io ci dovrei ringraziare l'avvocato di strada non soltanto perché è stata per me un'esperienza ed è tuttora un'esperienza bellissima essere una volontaria dell'associazione ma anche per questi eventi che ci danno la possibilità anche di approfondire alcune tematiche e di confrontarci direttamente e indirettamente con i temi del diritto dell'immigrazione. Oggi come sapete dal titolo andiamo ad affrontare due argomenti in maniera diciamo non superficiale nel senso di poco approfondita ma certamente andiamo a vedere quelli che sono gli elementi principali che possono interessarci anche in ragione dell'attività che magari si può svolgere a sportello. Quindi faremo una prima parte dell'incontro che sarà sul diritto di famiglia all'interno del diritto dell'immigrazione e una seconda parte in cui invece andremo ad affrontare il tema dei minori stranieri non accompagnati. Ero stata in dubbio se fare o meno delle slide, alla fine ho deciso di tediarvi con un po' di materiale e spero che non me ne vorrete. Quindi andiamo a lanciare subito la nostra presentazione. Allora intanto cominciamo con il diritto familiare. Come avete potuto vedere dagli incontri scorsi la norma in generale disciplina come si entra all'interno dello Stato italiano in via regolare oppure come nel momento in cui si entri per percorsi magari non regolari se si è richiedente protezione internazionale che cosa bisogna fare per fare una richiesta in tal senso, un'istanza di protezione internazionale. Ora, il diritto alla famiglia e all'unità familiare è disciplinato in maniera generale dalla CEDU, dalla Carta di Diritti Fondamentali e dalla Costituzione Italiana. In via generale è garantito il diritto alla vita privata della persona e a costruirsi una famiglia anche attraverso il matrimonio. Quindi non può escludersi che un cittadino di paese terzo che magari sia arrivato in Italia non possa in questa maniera far valere il proprio diritto e quindi riunirsi e ricongiungersi a quella che è la sua famiglia oppure costruire e costituire una famiglia sul territorio italiano. Questo è molto importante perché ovviamente sono principi generali rilevanti sotto molti punti di vista. È importante tenere presente per esempio che ovviamente il concetto di famiglia si è andato mutando negli anni, proprio perché abbiamo avuto attraverso anche la Biosprudenza della Corte Europea, la parificazione intanto tra famiglie non necessarie. Egegna, scusate di voi. Non mi si sente. Esattamente. Ora mi si sente? Sì. Ok. Allora, ovviamente il concetto di famiglia è andato mutandosi nel tempo perché siamo passati da un concetto ovviamente di famiglia di tipo più tradizionale, quindi unire a matrimonio un uomo e una donna, ovviamente poi il concetto generale si è modificato. Intanto negli anni 90 abbiamo avuto le prime sentenze che hanno parificato i vincoli non legati da rapporto di riconiugio e poi successivamente da vincoli di persone dello stesso sesso, prima unite da unioni civili e poi da veri e propri matrimoni. Ora, una delle prime tematiche certamente che dobbiamo andare ad affrontare quando parliamo di unità familiare è il ricongiungimento familiare, ossia quando un cittadino di paese terzo regolarmente presente sul territorio italiano voglia far venire in Italia la propria famiglia. Questo è uno dei pochi casi che noi abbiamo in cui una persona può in qualche maniera far venire nel territorio italiano persone che quindi regolarmente arrivano in Italia ma senza dover seguire tutta la procedura del decreto flussi con tutte le problematiche che sono connesse. Ovviamente la normativa di riferimento è il testo unico dell'immigrazione, quindi il decreto 286 del 98, in particolare gli articoli 28, 29 e 29 bis. Poi sono ovviamente sempre rilevanti il decreto di attuazione del decreto del testo unico, quindi il DPR 394 del 99 e vedremo anche la normativa sui rifugiati. Iniziamo rilevando chi il cittadino straniero può far venire in Italia. Può far venire in Italia il coniege, il coniege nel quale non sia legalmente separato e ovviamente la persona che fa venire il coniege in Italia non deve essere legata ad altri vincoli qui nel territorio italiano. Figli minorenni e per figli minorenni si intende i figli che non avevano ancora raggiunto i 18 anni nel momento in cui si avvia la pratica a dire con un elemento familiare. I figli che non abbiano ancora raggiunto i 21 anni e che siano incapaci al 100% è previsto poi per i genitori a carico, quindi genitori per i quali però si deve provare la vivenza a carico e i genitori oltre 65 anni, quindi non c'è più bisogno della vivenza a carico, ma non devono esserci altri figli di origine o del paese dove sono accolti perché si possa procedere al ricongiungimento familiare. Queste sono le persone che lo straniero può far venire in Italia attraverso la procedura. Però ovviamente lo straniero nel momento in cui fa una richiesta in tal senso deve dimostrare di avere i requisiti per procedere in tal senso. Dovrà dimostrare di avere il possesso di un alloggio idoneo o comunque di un'identità e dell'identità alloggiativa. L'alloggio deve essere parametrato con il numero di familiari che si fanno venire in Italia ed inoltre si deve considerare che c'è un calcolo un po' diverso laddove si debba far venire il figlio infra 14 anni. Deve essere assicurato un reddito minimo che deve essere pari all'assegno sociale, quindi all'incirca sono 5 mila euro l'anno e ovviamente deve derivare da fonti lecite di reddito e qualora si faccia venire il genitore oltre a 65 anni si deve essere in possesso di un'assicurazione sanitaria. Queste sono le regole generali. Tali regole non si applicano per la persona di cittadinanza straniera che abbia visto a riconoscersi lo status di rifugiato in ragione di quanto previsto dall'articolo 29 bis del testo unico immigrazione e altrettanto per il cittadino che si sia visto a riconoscere la protezione sussidiaria. Perché per espressa disposizione dell'articolo 22 del decreto legislativo 251 del 2007 è previsto che il cittadino sussidiario per quello che riguarda la normativa sul ricongiungimento familiare si vede applicare le stesse identiche norme del cittadino straniero con lo status di rifugiato. Perché queste caratteristiche? Chiaramente il titolare di protezione internazionale ha un regime di vantaggio di facilitazione che è dovuto proprio alla natura stessa delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Noi dobbiamo considerare che chiaramente una persona che è venuta in Italia ed è stata riconosciuta come protetta internazionalmente chiaramente può avere una condizione in patria tale da giustificare il fatto che la famiglia debba essere portata qui in Italia il più rapidamente possibile. Quindi senza attendere tutta una serie di requisiti come appunto l'alloggio e il reddito minimo. Bisogna oltre considerare che molto spesso la conclusione positiva di un ricongiungimento familiare può aiutare il percorso di cura del rifugiato stesso. In che senso parlo di cura? Molto spesso una persona che arriva in Italia che fa domanda di protezione internazionale ha ferite molto profonde e non è ancora pronto a creare qui in Italia il proprio futuro, pensare appunto al futuro. Molto spesso ha bisogno di ricostruire qui in Italia il proprio nucleo in modo tale da dare l'avvio alla sua vita effettiva qui in Italia. Molto spesso per chi lavora con i rifugiati sono sicura che potrà confermarvi il fatto che il ricongiungimento familiare diventa una tappa essenziale per l'integrazione qui in Italia e per una costruzione di una vita completa qui. Quali sono i passaggi della procedura del ricongiungimento familiare? Il ricongiungimento può essere diviso di fatto in tre parti perché c'è una prima fase che si avvia dinanzi alla prefettura territorialmente competente dove la persona è residente e in quel caso che cosa si fa? Si avvia una procedura che si effettua in maniera ormai completamente telematica, si avvia una, si presenta un'istanza telematicamente, si presentano tutti i documenti necessari perché la prefettura emette il nulla osta, cioè si dovrebbero fare, si fanno delle verifiche perché non ci siano elementi che ostano la venuta in Italia dello straniero che attualmente si trova nel territorio di destinazione. Come si fa materialmente questa domanda? Ad oggi è possibile fare il procedimento attraverso, prima bisognava essere attivato lo SPID e questo già di per sé determina una serie di problemi perché molto spesso è difficile, diciamo così, far passare il concetto di come debba essere effettuato questo tipo di registrazione e come debba essere eseguita poi in seguito perché bisogna anche considerare per esempio quando si ha a che fare con rifugiati che può capitare spesso che siano persone arrivate da poco tempo sul territorio italiano e che quindi non abbiano ancora dimestichezza con le nostre procedure telematiche. Un altro dei problemi sicuramente è la durata della procedura, la norma prevederebbe che il nulla osta venga emesso entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, però molto spesso purtroppo questo termine non viene rispettato e abbiamo visto che attualmente con l'attuale crisi sanitaria entrare in contatto con la prefettura e conoscere le ragioni per cui magari una pratica non è stata lavorata diventa ancora più complesso. Purtroppo questi sono gli strumenti di cui siamo dotati e che a volte possono creare delle difficoltà soprattutto perché molto spesso quello con cui si trova a confrontarsi è la difficoltà dall'altra parte soprattutto quando si ha a che fare con un rifugiato di comprendere le lentezze del nostro sistema, specie se abbiamo a che fare con una persona che magari ha un vissuto particolarmente traumatico. Però una volta che abbiamo ottenuto il nulla osta che cosa bisogna fare? Teoricamente se la prefettura ha emesso il nulla osta entro i 90 giorni automaticamente lo invia per via telematica all'ambasciata competente al rilascio dei visti. Però questa cosa praticamente non avviene mai quindi che cosa succede? Che la persona si deve recare in prefettura, ritira il documento originale del nulla osta e lo deve inviare materialmente al parente nel paese d'origine perché poi presenti i documenti all'ambasciata per l'avvio della procedura per il rilascio del visto. Questo già determina poi una serie di problemi perché purtroppo molto spesso e ancora di più in questo periodo storico l'accesso agli uffici dell'ambasciata non è sempre facilissimo, non è sempre agevole. Quindi molto spesso per esempio mi è capitato di dover interfacciare con determinate ambasciate in modo tale che venisse fissato l'appuntamento alle persone perché poi potessero presentare le istanze e procedere con la domanda. Un'altra problematica che sicuramente a volte si ha è l'accertamento dei documenti perché la fase diciamo in prefettura è una fase che si basa soltanto sulle carte quindi non si fa una valutazione poi sulla se i documenti sono reali o meno anche perché molto spesso ovviamente la prefettura si basa per alcuni aspetti su semplici fotocopie o scansioni. Sta all'ambasciata a verificare la regolarità della documentazione presentata, la documentazione che magari attesta il rapporto di coniugio o il vincolo familiare o magari la mancata presenza di fratelli sul territorio nazionale quando bisogna far venire un genitore e quindi questo è un ruolo che spetta sicuramente l'ambasciata. Soprattutto quando si tratta di persone con la protezione internazionale purtroppo a volte ci sono mancati riconoscimenti soprattutto per quello che riguarda il rapporto di filiazione e quindi molto spesso quello che l'ambasciata fa è ricorrere al test del DNA. Questo test che dovrebbe essere un estrema razio per quanto previsto tanto dalla direttiva UE quanto dalle linee guida di UNHCR è purtroppo utilizzato molto spesso in maniera indiscriminata e questo può determinare una serie di problemi soprattutto perché noi dobbiamo ricordare che per la legge italiana non è soltanto vincolo familiare, vincolo di filiazione quello legato dal sangue ma potrebbe essere anche appunto una persona che magari ha adottato un figlio oppure che magari non ha mai scoperto che il figlio non era biologicamente suo e questo ovviamente può determinare tutta una serie di problemi. Per quello che riguarda il test del DNA per i rifugiati se ne occupa materialmente OIM che è l'organizzazione mondiale per le immigrazioni che si occupa di prendere il campione in Italia e il campione nel paese d'origine per procedere poi all'accertamento. Mettiamo caso che il nostro ricongiungendo riesce finalmente a ottenere il visto ovviamente a quel punto bisogna fare i biglietti e arrivare in Italia nel momento in cui arriva in Italia entro otto giorni dall'arrivo bisogna teoricamente presentarsi in prefettura molto spesso prendere l'appuntamento direttamente alla prefettura competente per segnalare l'ingresso in Italia e quindi avviare tutta la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno che per i familiari di persona regolarmente presente sul territorio italiano è un permesso per motivi familiari di durata che dovrebbe essere eh pari a quella del del permesso di soggiorno della persona che fa ricongiungere tenuto conto però che per esempio se parliamo di rifugiati e di persone con la protezione sussidiaria questi hanno un permesso di soggiorno di cinque anni in realtà il permesso di soggiorno per motivi familiari è al massimo della durata di due anni quindi diciamo che ehm non avranno un permesso di soggiorno pari in realtà alla durata di quello del del familiare con cui si ricongiungono. Accanto al ricongiungimento familiare dobbiamo considerare quella che è la coesione familiare ossia cosa succede se la persona eh crea un vincolo familiare in Italia o magari il parente si è in Italia per altre ragioni. È possibile procedere alla coesione familiare che è di fatto un ricongiungimento familiare sul plus dove ovviamente manca tutta la fase del del visto e tutta la parte del non la osta. Quello che però bisogna fare è che la persona se eh facciamo un esempio eh la moglie del della persona presente sul territorio italiano prende un visto turistico arriva in Italia e eh vuole però rimanere giustamente con con il codice. Che cosa si deve fare? Si deve avviare la pratica di coesione familiare perché se ci sono le condizioni per il rilascio per l'ottenimento del ricongiungimento familiare potrà chiaramente restare sul territorio italiano. Come lo dovrà fare? Dovrà farlo entro un termine ossia entro un anno dalla scadenza del titolo che autorizza stare sul territorio italiano quindi nel caso in cui la persona ha visto visto turistico entro un anno dalla scadenza del visto turistico però la persona che fa il ricongiungimento deve avere tutti i requisiti per il ricongiungimento familiare quindi il reddito se trattiamo di casi di non protezione internazionale il reddito l'alloggio eccetera. È importante sapere che quando a effettuare la coesione familiare è un rifugiato o un titolare di protezione sussidiaria il termine di validità di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno non è più applicabile quindi a prescindere dalla anche addirittura se la persona fosse arrivata irregolarmente sul territorio italiano e si deve ricongiungere con un con un familiare titolare di protezione internazionale può procedere alla coesione familiare cosa che invece non si può fare se la persona che è già in Italia è titolare di un altro tipo di permesso di soggiorno cosa succede invece se il vincolo familiare si costituisce in Italia cioè se lo straniero si sposa in Italia allora è importante sapere intanto che il diritto al matrimonio è chiaramente un diritto generale quindi chiunque può sposarsi sul territorio italiano chiaramente eh sussistendone i requisiti previsti dalla legge quindi un cittadino straniero può chiaramente sposarsi con un cittadino italiano se un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio può sposare un cittadino italiano o un cittadino di paese terzo regolarmente presente sul territorio ovviamente seguendo tutta una serie di regole per esempio il cittadino straniero deve presentare per poter procedere al matrimonio un nulla osta rilasciato dalle proprie autorità consolari e quindi ovviamente la persona dovrà presentare questo tipo di documento e potrà chiaramente procedere al matrimonio però affinché si possa ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari lo straniero che sposa un'altra persona titolare di un permesso di soggiorno o cittadino straniero e chiedo scusa un cittadino italiano deve essere regolare sul territorio da almeno un anno ed è sempre importante ricordare che questo tipo di permesso di soggiorno è revocabile laddove risulti che il vincolo familiare sia costituito con per frode cosa succede invece se per esempio il cittadino che si sposa era irregolare quindi non poteva procedere alla conversione teoricamente bisogna sempre ricordare che esiste il principio dell'inespellibilità del familiare convivente con cittadino italiano quindi sia il familiare convivente si deve intendere sia il conge sia il parente dentro il secondo grado se vivono e sono residenti con il cittadino italiano sono considerati inespellibili e quindi hanno diritto non soltanto a restare in Italia ma ad avere un permesso di soggiorno che tra l'altro garantisce ovviamente l'accesso a tutta una serie di servizi nonché al lavoro e a quant'altro quindi come vediamo esistono tutta una serie di permessi che garantiscono la conferma del diritto familiare in Italia e a costituirsi una famiglia qui in Italia. L'altra volta il collega Priore aveva accennato al permesso di soggiorno nell'interesse del minorelle che si tratta di un tipo di permesso di soggiorno eccezionale che non segue le normali regole del dei permessi di soggiorno perché perché normalmente il permesso di soggiorno si chiede ehm alla all'autorità amministrativa si fa tutto un tipo di un tipo di percorso in genere bisogna avere il permesso per accedere in Italia oppure come ci si era detto precedentemente magari con eh la richiesta di protezione internazionale. La norma però espressamente l'articolo trentuno del testo unico immigrazione al comma due prevede la possibilità che per l'interesse del figlio minorenne i familiari del figlio minorenne e il figlio minorenne possono chiedere al tribunale per i minorenni il rilascio di un titolo di soggiorno nell'interesse del del minore di anni diciotto. Bisogna ricordare che si tratta di un permesso di soggiorno che eh viene rilasciato dal tribunale che non ha una automatica ehm un'automatica rinnovo ma bisogna sempre passare per il tribunale per poter chiedere il nuovo rinnovo e molto spesso questo significa che intanto come accennava l'altra volta il collega Priore spesso eh molte tribunali hanno creato questa giurisprudenza per cui non era possibile chiedere il permesso di soggiorno il nuovo permesso di soggiorno durante la validità di quello precedente. Questo ovviamente creava una serie di intoppi nonché le una serie di difficoltà intanto all'accesso ai servizi nel momento in cui uno aspettava che venisse rilasciato il nuovo permesso di soggiorno. E poi comunque anche sulla continuità ehm residenziale del di regolarità del territorio si creavano dei vuoti. Questo era particolarmente importante perché per esempio c'era stata una giurisprudenza che aveva detto che con il permesso ex articolo trentuno era possibile richiedere eh poi una volta dei corsi di termi la eh il permesso di lungo soggiorno. Ovviamente però se si creano dei vuoti tra un permesso di soggiorno e l'altro ecco che i cinque anni non maturano mai e questo diventa un problema. È un esigenze è un permesso che è legato alle esigenze di sviluppo psicofisico del minorenne. Un tempo questo eh queste esigenze sono legate soltanto alla salute del minore stesso. Poi si era creata, si è creata una giurisprudenza che invece ha dato un'interpretazione più ampia di questo concetto ricomprendendovi in generale le eh il benessere e lo sviluppo psicofisico non necessariamente collegato a problemi di salute. Come dicevamo l'altra volta ehm il decreto 130 del 2020 ha introdotto un'importantissima riforma perché ha previsto che il permesso di soggiorno ex articolo 31 sia tra quelli convertibili per motivi di lavoro. Questo crea una possibilità per la persona che ha ottenuto questo tipo di documento di ehm scindersi, di sciogliersi dal vincolo collegato allo sviluppo del del minore ma addirittura la si realizza la possibilità che materialmente la persona si integri ottenga un titolo di soggiorno e quindi eh in qualche maniera renda eh collegata a quel punto al rapporto di lavoro l'attività e la sua presenza sul territorio italiano rendendolo chiaramente finalmente libero da tutta una serie di problematiche di cui abbiamo parlato fino ad ora. Ah no scusate. Ehm non so se vogliamo fare qui un breve recap delle domande così magari ci... forse conviene. E allora ora se apri ce ne sono tre di fila. Ok sì. Caso di minore arrivata in Italia con genitori di altro paese europeo. Adottata ma senza certificato di adezione. Trasferimento dublino. Allora se i genitori in un altro paese. Ah ho letto di un altro paese europeo. Adottata ma senza certificato. Allora il problema qual è? Ehm che eh quando si fa una domanda di trasferimento dublino le eh possibilità sono varie ossia può essere che il il paese di destinazione ritenga che il effettivamente il parente in nel suo paese è il il familiare e quindi accetta il il trasferimento sotto dublino e non la question può essere che però ritenga che non ci sono le condizioni per il trasferimento dublino perché magari ritiene che il vincolo familiare non sussiste. In questi casi o il il lo stato italiano cioè il la persona in Italia attraverso lo stato italiano insiste per una presa in carico altrimenti chiaramente dal momento che parliamo di un trasferimento dublino parliamo di una persona che è richiedente protezione internazionale può eventualmente introdurre la domanda di protezione internazionale qui in Italia. Bisognerebbe capire le ragioni per cui è stato negato. Faccio presente da questo punto di vista che in realtà quando si chiede un trasferimento dublino si possono dimostrare il il rapporto familiare non necessariamente con documenti ma si possono presentare tutta una serie di altre allegazioni che favoriscono la dimostrazione del rapporto familiare che possono essere foto possono essere messaggi possono essere lettere tutto quanto che dimostri che tra il familiare e il minore c'era un collegamento già precedentemente cioè che effetti che non è una cosa che è stata diciamo così inventata. Caso di minore arrivate no questo il permesso ex articolo 31 può essere richiesto anche dal padre dal solo padre regolare pur avendo il minore già la madre regolarmente presente nel territorio facendo leva sull'interesse familiare. Allora se la minore che immagino sia regolare sul territorio a questo punto il padre bisognerebbe in qualche maniera dimostrare magari che il padre si occupa della figlia che la mantiene che cioè non deve essere un padre che approfitta del fatto che la figlia è regolare sul territorio per regolarizzarsi a sua volta. Chiaramente in qualche maniera deve dimostrare che si occupa della figlia o che se non se ne è occupata per qualche ragione c'è una cosa giustificabile in qualche maniera faccio presente che in questo tipo di percorsi generalmente viene poi investito il servizio sociale che fa delle indagini sulla effettiva sussistenza del benessere del figlio ad avere il genitore presente sul territorio o di restare presente sul territorio. Poi vediamo un po'. Eh quindi se lo straniero in Italia ma è regolare non può ottenere un permesso familiare pur avendo in Italia una moglie o un figlio entrambi regolari sul territorio? Eh allora questa purtroppo è un po' problematica come cosa perché essendo completamente irregolare eh purtroppo la la questione è un po' un po' complessa perché insomma la norma dice che la persona dovrebbe essere eh dovrebbe avere almeno un titolo regolare per essere in Italia in quel momento purtroppo. Poi allora una persona che ha cittadinanza italiana e se vuole e vuole sposare uno straniero regolarmente residente in un altro paese europeo può sposare e deve avere il fatto in Italia per un anno? ehm ehm. Scusami. Sì. Non mi si sente più? No 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 non tutti quando scrivono solo a panelisti non tutti vedono la domanda quindi prima di rispondere devo. Ah ok. Scusate. Eh allora. in caso di permesso di soggiorno per interessare il minore entrambi i genitori possono fare richieste a rimanere sul territorio? Sì. Sì non è che deve essere un solo genitore cioè dipende poi dalla situazione della 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 famiglia però insomma inizialmente sì. Poi vediamo. Sorella di cittadina italiana ha chiesto la coesione familiare con i figli minori e in attesa era più di tre anni e nel frattempo i bambini vanno a scuola. A giorno d'oggi il problema è la polizia. Eh questo nel senso diventano un po' complicate quindi non. Ok. Allora vediamo un attimo. Prima ci avevano chiesto se in caso di revoca del permesso o del ricondimento per frode sia necessario che passi in giudicato la sentenza o basta l'avvio del procedimento? Non ne ho idea. Ok. Non mi è mai capitato scusate ma non mi è mai capitato. Non mi ricordo chi lo ha chiesto e non lo sappiamo. Allora la richiesta di invia telematica per il rilascio non lo sta ricongiungimento può essere presentata dall'avvocato modificato e mandato attualmente va fatto per via speed. Io personalmente sconsiglio sempre di eh prendere le di prendere le di fare diciamo di produrre di introdurre una domanda che si fa con speed ehm per altri perché si creano sempre parecchi problemi quindi io lo sconsiglio francamente. Meglio che magari si dà una mano a capire come funziona lo speed e poi si fa fare la domanda direttamente eh perché comunque sempre può essere sempre un problema. Adesso cerco di recuperare la domanda della signora Miriam. Vediamo cosa la trovo. Mh una persona che ha la cittadinanza italiana e vuole sposare uno straniero regolarmente residente in un altro paese europeo. Può sposare o deve per forza venire a vivere per un anno in Italia. No il matrimonio si può sempre chiaramente fare e appunto come dicevo prima se la persona ha la città. Allora intanto poi bisogna vedere magari che tipo di permesso ha la persona nell'altro nell'altro stato italiano eh nello stato europeo però in generale se la persona ma sposarci sposarsi ci si può sposare quindi non c'è nessun problema. In più la persona che convive con cioè il coniuge di cittadino italiano se convivono non può essere espulso e ha diritto a un permesso di soggiorno quindi da quel punto di vista non ci sono problemi. Ok a questo punto andrei avanti con la tematica perché adesso entriamo in un'altra tematica pure un po' complessa che è appunto i minori stranieri non accompagnati. Allora la normativa sui minori stranieri sui minori in generale è una normativa che di fatto si è creata a partire dalla da dopo la prima guerra mondiale. Fino a quel periodo i minorenni non erano considerati ehm diciamo ehm soggetti di diritto in senso proprio né tantomeno soggetti di diritti. Erano una emanazione della famiglia a volte addirittura una proprietà una proprietà del del padre eh della madre a volte tendenzialmente solo del padre. Cosa succede? Che già a partire dal 1924 inizia tutta una serie di normative che vanno invece a tutelare i diritti dei dei minorenni. In particolare abbiamo la convenzione del 24 poi la convenzione del 59 per arrivare alla convenzione universale diritti del fanciullo del 1989 che è la cosiddetta CRC che per tutti i mh le persone e gli agenti di diritto che si occupano della materia è eh l'elemento fondamentale di tutta la normativa. È importante sapere che ehm tutta una serie di principi di cui adesso andremo a parlare successivamente erano già presenti nella nostra normativa italiana ma sono state in qualche maniera messi in ordine a sistema dalla legge 47 del 2017 che è la cosiddetta legge Zampa che ha dato un ordine e una eh una organizzazione a tutta una serie di principi anche soltanto per superare il concetto e la mh difformità di prassi sul territorio nazionale. Intanto ricominciamo con il concetto cosa chi sono i minori stranieri non accompagnati. L'articolo 2 della legge 47 disciplina quali sono questi soggetti e sono ovviamente persone con età inferiore agli anni diciotto che non hanno la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che sono presenti sul territorio dello Stato o si trovano comunque sottoposte alla giustizia italiana senza i genitori e la rappresentanza dei loro genitori in Italia o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi dell'ordinamento italiano. Quindi intanto è importante dare il principio che si tratta di persone minori di anni diciotto e questo elemento è particolarmente importante vedremo come la eh legge Zampa ha disciplinato questa problematica cioè la l'identificazione della persona eh sotto gli anni diciotto deve avere quando si dice che non deve avere altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti è importante sapere che la Cassazione ha specificato che non è sufficiente che ci siano magari familiari ai quali la persona è stata affidata verbalmente ma deve esserci un vero e proprio provvedimento giudiziale proprio perché nella legge per la legge italiana non è possibile l'affido verbale. Quali sono i diritti che sono collegati al minore all'essere un minore straniero non accompagnato. Intanto il minore straniero non accompagnato non può essere mai respinto in nessun caso è inespellibile quindi eh non può essere non può ricevere un provvedimento di espulsione eh perché si trova in Italia regolarmente salvo eh qualora l'espulsione non sia stata emessa per ragioni di sicurezza dello Stato e anche in questo caso il è previsto che il il questore chieda l'autorizzazione al tribunale per i minorenni per procedere all'espulsione e il tribunale per i minorenni deve comunque verificare che l'espulsione non sia contraria all'interesse superiore del minore. Ovviamente eh l'inespellibilità è anche collegata alla possibilità di avere un permesso di soggiorno perché il bisogna sempre ricordare che chiaramente il permesso di soggiorno rappresenta l'elemento fondamentale per l'accesso a tutta una serie di diritti. Quindi la diritta a un permesso di soggiorno nella specie può chiedere semplicemente un permesso di soggiorno per minore età che è un permesso che è valido eh a valore fino ai diciotto anni e e una volta quando si è raggiunto i diciotto anni è possibile procedere alla sua conversione in eh in permessi diciamo per adulti che vedremo tra poco. È importante sapere che il minore ha diritto a essere accolto in centri specifici per minorenni non deve essere mai accolto in centri misti ma in centri dedicati ai minorenni e deve essere mh ehm via il principio della parità di trattamento rispetto ai minorenni italiani per tutta una serie di servizi. Faccio un esempio fra tutti. Il minore straniero non accompagnato eh anche prima che gli venga rilasciato il permesso di soggiorno ha diritto all'accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Importantissimo e non dimentichiamolo è il diritto inoltre all'ascolta e all'ascolta essere informati. Questo che cosa vuol dire? È un principio che comunque in generale si applica a tutti i minorenni ma a maggior ragione per i minori stranieri non accompagnati questo significa che tutte le informazioni gli devono essere fornite in una maniera in una lingua a lui comprensibile e in una maniera che sia ehm si dice nel nel gergo child friendly quindi un che tenga conto del livello di ehm di istruzione e di maturità del ragazzo in modo tale che possa essere effettivamente eh assorbite in una maniera che sia eh realistica. In tutte le procedure che riguardano il minore straniero non accompagnato è prevista la presenza di un mediatore culturale. Infatti nelle procedure che sono state ridescritte dalla legge Zampa uno delle figure che è sempre presente sia nelle fasi di eh accoglienza che nelle fasi per approfondire la storia del ragazzo per capire le sue esigenze la presenza del minore e del mediatore è sempre assicurato. Ehm è anche importante sapere che eh con la legge quarantasette del duemiladiciassette è stato istituito il l'istituto del tutore volontario cioè eh trattandosi di minorenne che non ha eh genitori presenti sul territorio italiano chiaramente è opportuno e necessario che venga nominato un tutore che garantisca che tutta una serie di eh procedure vengano realizzate. E anche banalmente che eh lo rappresenti nelle procedure amministrative. Ehm nella prassi fino al duemiladiciassette questo ruolo era di fatto svolto dal sindaco molto spesso sostituito quasi sempre sostituito dai servizi sociali. Cosa cosa significava? Che ogni eh assistente sociale del comune poteva avere centinaia di eh minorenni affidati sia minori stranieri che minori italiani in stato di abbandono. Questo ha detta a a detta dal legislatore non garantiva quelli che erano i diritti eh del minorenne e quindi si è ideato questo nuovo istituto ossia la possibilità per i cittadini italiani di fare eh cittadinanza attiva di eh proporsi come eh come tutori di minori strani non accompagnati in genere si fa un percorso attraverso il attraverso il garante regionale della dell'infanzia che indice un un corso di formazione poi vengono selezionati i eh le persone che ritengono di voler fare questo tipo di percorso e quindi saranno delle persone che non sono assolutamente i non sono assolutamente dei eh affidatari ma eh svolgono tutte le funzioni di tipo amministrativo e molto spesso diventano possono diventare una una realtà particolarmente importante per il minore straniero non accompagnato. Dal punto di vista della procedura eh una volta che il minore arriva in Italia è importante sapere che quando un minore straniero non accompagnato viene individuato sul territorio nazionale dall'autorità di pubblica sicurezza questa ne deve dare subito comunicazione alla procura perché eh per i per i minorenni presso il tribunale per i minorenni e soprattutto al tribunale per i minorenni perché si deve procedere appunto alla all'apertura della tutela alla nomina del tutore e il minore deve essere accolto in una struttura apposita quindi deve essere ratificata la misura d'accoglienza. Inoltre è importante che venga comunicata la sua presenza al ministero del lavoro perché è il ministero del lavoro che si occupa di censire e monitorare la presenza dei minori sul territorio italiano. Da questo punto di vista tra l'altro se vi interessa vedere quelli che sono i dati vi consiglio di andare sul cruscotto del ministero del lavoro che per l'appunto fornisce dati dei minori presenti in Italia, delle nazionalità principali, delle fasce di età e di dove sono accolti. È molto importante perché ovviamente ci dà il segno e il polso di quelli che sono le presenze in Italia sul territorio. Quindi questi diciamo sono chiaramente dei passaggi fondamentali ai fini della dell'entrata nel sistema del minore stesso. Dicevamo prima che l'età del minore straniero non accompagnato è un elemento particolarmente importante proprio perché può determinare la differenza tra una persona che può essere espulsa o che non può essere espulsa dal territorio allo Stato italiano. Il problema è che molto spesso, salvo per alcune nazionalità, generalmente il minore non arriva munito di un documento di riconoscimento, di un documento che ne attesti e ne garantisca dati anagrafici e soprattutto la data di nascita. Altro problema è che soprattutto per determinate nazionalità alcuni di loro neanche sono in grado di dare con certezza le date di nascita. È un caso molto comune per esempio per i cittadini somali che sono in grado più o meno di dire l'età che possono avere ma non sono in grado di dare una data di nascita precisa. La normativa italiana fino al 2017 non era sufficientemente chiara e questo aveva determinato tutta una serie di problematiche di applicazione della norma o addirittura di utilizzo di strumenti di accertamento dell'età che poi si erano rivelati non sufficienti. Per esempio sono sicura che molti di voi sono a conoscenza del fatto che uno degli strumenti più utilizzati per valutare l'età del minorenne era la radiografia del polso attraverso il metodo Grohlick and Pyle. Questi erano due scienziati che tra le due guerre hanno fatto una valutazione su tutta una serie di radiografie di polsi di ragazzi americani quindi parliamo di ragazzi capacici tra le due guerre che avevano fatto un certo tipo di vita e avevano ricevuto una certa alimentazione. Si era rilevato che in quei casi c'erano una serie di ossa, adesso non mi chiedete quali perché non lo so, che non avevano finito la calcificazione e quindi si poteva ritenere che nel caso di assenza di calcificazione si avesse un ragazzo minorenne con la calcificazione se avesse invece un ragazzo maggiorenne. Ora, a parte il fatto che ognuno di noi, soprattutto a seconda del tipo di vita e di sforzi e di alimentazione che ha ricevuto può ottenere una diversa ossificazione del polso, chiaramente c'era un tale margine di errore da non poter garantire la tutela dei ragazzi. Anche perché molto spesso si era scoperto che non soltanto non era affidabile il sistema ma addirittura la stessa radiografia vista da più persone poteva determinare una risposta diversa. Quindi che cosa è successo? Che la legge 47 ha voluto in qualche maniera dare un ordine a quelle che sono le regole previste per la valutazione dell'età. Sicuramente è importante intanto tenere conto che se il ragazzo in qualche maniera ha qualsiasi tipo di documento che ne attesti l'età può chiaramente presentarli e questi devono essere valutati, deve essere valutato tra l'altro se esistono dei fondati dubbi relativamente all'età dichiarata. Perché se non sussistono dubbi relativi all'età dichiarata non ci sono motivazioni per procedere ulteriormente a delle indagini in tal senso. Ed è anche importante sapere che intanto che non si è stabilito se l'età dichiarata dal ragazzo sia o meno effettivamente quella da ritenersi reale, la persona deve essere considerata a tutti gli effetti un minore. Quindi con tutte le conseguenze che derivano dal punto di vista dell'accoglienza, quindi l'accoglienza in strutture apposite, ma anche il fatto che per esempio tutti i provvedimenti amministrativi e magari davanti all'autorità giudiziaria devono essere sospesi in tal senso. E' anche importante sapere che ovviamente tutto questo tipo di attività devono essere svolte soltanto dopo che sia stata effettuata un'assistenza umanitaria al minorenne che è stato ritrovato. Dicevamo quindi in via principale ovviamente la valutazione dell'età deve essere fatta con un documento anagrafico, perché soltanto un documento anagrafico può dire una data rinascita in maniera precisa. Tutto il resto sono semplicemente delle valutazioni, non è una determinazione. Eventualmente si può chiedere la collaborazione dell'autorità diplomatico consolare del minorenne, però ci sono delle eccezioni. Non è possibile chiedere questo tipo di collaborazione se il minorenne ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale, se emergono dal colloquio fatto in accoglienza degli elementi che fanno propendere che il ragazzo possa chiedere la protezione, oppure se possano derivarne dei pericoli di persecuzione. O semplicemente se il minorenne dichiara di non volersi avvalere dell'autorità consolare. In questi casi non è possibile richiedere l'assistenza in tal senso. In tutti gli altri casi invece è possibile chiedere conferma che magari il rilascio di certificati che attestano l'età del minore stesso. Cosa succede se il ragazzo non ha un documento, oppure per qualche ragione il documento non viene considerato vero e quindi in qualche maniera bisogna determinare l'età del ragazzo. Allora, se non è in possesso di alcun tipo di documento, si dovrebbe procedere ad un colloquio che serve a stabilire se il livello di maturità e tutta una serie di informazioni che vengono fornite al servizio sociale, all'assistente sociale del centro del ragazzo accolto sono compatibili con l'età di chiara, se sussistono ancora i fondati dubbi si potrebbe procedere con la valutazione e con gli accertamenti sociosanitari. Non è però né la polizia né il servizio sociale che si occupa di valutare se ci sono i fondati dubbi ma deve essere investita la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che eventualmente emetterà un provvedimento con il quale dispone che vengano fatti gli accertamenti sociosanitari. Cosa sono gli accertamenti sociosanitari? Nel 2020, a luglio, è stato emesso il protocollo per l'accertamento dell'età a seguito dell'accordo della conferenza Stato-Regioni ed è stato disciplinato come si deve materialmente procedere alla valutazione dell'età facendo una serie di esami che devono essere considerati a invasività crescente. Quindi si parte da quelli che hanno meno invasività per arrivare fino agli accertamenti sanitari veri e propri. È importante sapere che il minorenne deve essere sempre informato con l'ausilio del mediatore del tipo di procedimento che si sta per avviare e delle conseguenze che può determinare. In primo luogo si procede ad un colloquio con un assistente sociale poi si può procedere con un incontro con uno psicologo dell'età evolutiva e infine con un pediatra con competenze oxologiche. Questi passaggi sono eventuali. Perché? Perché nel momento in cui sussistono le condizioni per determinare che la persona ha un'età inferiore agli anni 18 la procedura si deve fermare. Non si deve mai arrivare fino all'ultimo step a meno che non ci sia effettivamente la necessità di effettuarlo. Perché altrimenti occorre fermarci prima. È importante anche sapere che se alla fine di tutto questo percorso esiste ancora il dubbio sull'età del minore si deve prevalere per la minoretà. Quindi il ragazzo deve essere considerato minorenne. Cosa succede quando finalmente il ragazzo però raggiunge la maggiore età? Il ragazzo che ha raggiunto la maggiore età ovviamente può convertire il suo permesso di soggiorno. Come lo può convertire? Lo può convertire in studio, in lavoro e in attesa occupazione, in ricerca lavoro. Come lo fa? Attraverso un kit postale. Quindi inviando il kit postale tramite la procedura normale. Ha però dei passaggi in più rispetto a un cittadino maggiore. Intanto se il minore non è in Italia da almeno tre anni e non è stato ammesso a un percorso di integrazione di due dovrà chiedere il parere alla DG Immigrazione. Il parere alla DG Immigrazione è un parere che viene effettuato generalmente dagli assistenti sociali che materialmente trasmettono una relazione sullo Stato sul percorso fatto dal ragazzo e tutte le informazioni necessarie all'autorità amministrativa che rilascerà questo tipo di parere. È importante sapere che la legge 47 del 2017 va prevista che per questo parere si applicasse il silenzio assenso. Quindi qualora la DG Immigrazione non emattesse il parere nei termini stabiliti dalla legge questo doveva considerarsi come positivo e quindi la questura non poteva opporre la mancata emanzione del parere come motivo per la mancata conversione. Cosa succede nel 2018? Che il governo, due governi fa, ormai giustamente, viene emesso il decreto 113 del 2018 il cosiddetto primo decreto sicurezza. Qual era una delle bandiere di questo primo decreto sicurezza? Che i minori non si toccavano che i minori erano salvi che non avrebbero avuto alcuna conseguenza. In realtà non è assolutamente vero per due ordini di ragione. Il primo perché con la legge di conversione con un'operazione veramente degna di un prestigiatore viene eliminato dal legislatore il silenzio assenso per il mancata emanazione del parere della digi immigrazione e come sappiamo viene eliminato la protezione umanitaria che era in molti casi un tipo di protezione più comune che veniva rilasciata ai minori stranieri non accompagnati perché molto spesso se il minore straniero non accompagnato faceva domanda di protezione internazionale in ragione dell'arrivo prima dei 18 anni dell'avvio del percorso di migrazione come da ragazzo eccetera veniva considerato vulnerabile e quindi gli veniva riconosciuta questa forma di protezione con la conseguenza e con la sua eliminazione ovviamente moltissimi minori sono rimasti senza permesso anzi no scusate molti ragazzi che intanto sono diventati maggiorelli per quello che riguarda il parere della digi immigrazione l'eliminazione del principio del silenzio assenso aveva determinato un intasamento dell'attività della digi immigrazione che da doversi concentrare soltanto sulle domande più complesse quelle più che meritavano una maggiore attenzione si è dovuto iniziare a dare una risposta a tutti i pareri che venivano richiesti perché altrimenti le pratiche venivano bloccate in quest'ora non si poteva procedere alla conversione questo però che cosa determinava determinava anche che se un minore magari era arrivato da poco tempo sul territorio italiano e magari aveva dato segni di essere una persona che aveva intenzione di integrarsi di lavorare e quant'altro ma era arrivato appunto troppo a ridosso dei 18 anni la digi non poteva a quel punto rilasciare un parere favorevole alla conversione perché questo tipo di parere non aveva le basi per poter essere rilasciato cosa che invece l'indigenza del silenzio assenso poteva essere chiaramente bypassato dal non emettere alcun parere cosa era successo che a quel punto la digi immigrazione si era inventata l'impossibilità di emettere parere quindi diciamo cercava di non rispondere in modo tale che magari il ragazzo poteva integrare poi in questura con i documenti che attestavano il percorso di integrazione e magari ottenere una qualche forma di conversione grazie al cielo però il decreto 130 del 2020 ha reintrodotto il principio del silenzio assenso nel parere della digi immigrazione e quindi questo ci ha riportato diciamo alla vigenza in pieno della legge zampa è importante sapere ed è un problema che molto spesso si verifica è il fatto che ovviamente ai fini della conversione il minorenne deve essere in possesso del passaporto questo può determinare diversi problemi soprattutto perché diverse ambasciate diversi uffici consolari molto spesso non rilasciano una forma di passaporto se il minore non può dimostrare o un passaporto vecchio scaduto o almeno un documento che attesti la minoretà questo perché perché diciamo non rilasciano questo tipo di documento e quindi questo rallenta tutta una serie di procedure o addirittura rende impossibile la conversione stessa e quindi non so se vi capitasse chiaramente laddove se qualcuno di voi magari lavora in centri di raccoglienza per minori o ha a che fare con minori stranieri non accompagnati ovviamente con un certo anticipo occorre avviare tutte le procedure per il rilascio del passaporto in modo tale che poi al momento dei 18 anni si possa convertire a fini di precisione ovviamente il parere della DG migrazione si può chiedere a partire da 90 giorni prima il compimento della maggiorità fino a 60 giorni dopo la conversione del permesso di soggiorno da 60 giorni prima fino a 60 giorni dopo il raggiungimento della maggiorità infine vi voglio parlare di questo istituto previsto dall'articolo 13 della legge Zampa che è il proseguo amministrativo il proseguo amministrativo trae origine da un istituto di fascista memoria che è l'articolo 25 del reggio decreto 1404 del 34 questo istituto quello diciamo gli anni 30 era un istituto realizzato per quei minorenni che al raggiungimento della maggiorità non avevano ancora avevano dimostrato diciamo un comportamento non regolare per così dire o comunque non dava segni di una integrazione reale effettiva e quindi dovevano essere in qualche maniera tenuti ancora sotto controllo per alcuni anni al contrario l'articolo 13 della legge Zampa è un istituto premiale è un istituto che è previsto laddove il minorenne abbia fatto già e intrapreso un buon percorso di inserimento sociale ma non ha ancora tutti gli aspetti che lo supportano in un percorso totale di autonomia essere ancora supportato perché sia autonomo e indipendente ce la possa fare da solo quindi che cosa si fa in questi casi il servizio sociale il tutore volontario o addirittura si ritiene perfino il minorenne stesso a raggiungimento la maggiorità fa un'istanza al tribunale per i minorenni dimostrando quello che è il percorso di integrazione fatto fino a quel momento presentando un progetto di integrazione per gli anni successivi e si chiede che il minore venga affidato al servizio sociale fino addirittura ai 21 anni non necessariamente il tribunale per i minorenni affiderà fino ai 21 anni generalmente si fanno una serie di step con il servizio sociale in modo tale che si verifichi l'andamento del percorso di inserimento e magari venga rinnovato appunto fino a 21 anni è importante sapere che con il che con il decreto 130 del 2020 è stato previsto che i minori in proseguo amministrativo e i neomaggiorenni in proseguo amministrativo possano essere accolti nel circuito SAI ex SPRAR e quindi in questa maniera si eviti che i ragazzi in proseguo amministrativo carichino troppo sul sul budget dei comuni perché molto spesso purtroppo una delle problematiche per cui l'istituto non era partito fino al fondo era il fatto che purtroppo i servizi sociali molto spesso non avevano le forze economiche per poter sostenere questo tipo di percorso e quindi non facevano mai la richiesta di affidamento invece in questa maniera andando a gravare sul servizio centrale quindi sul ministero si spera di poter in qualche maniera garantire che tutti coloro i quali abbiano gli elementi e le condizioni per il riconoscimento del proseguo possano effettivamente vederselo riconosciuto solo a chiusura con questo veramente chiudo per è importante che sappiate per i minorenni e per i minori stranieri non accompagnati che molto stesso loro stessi possono essere riconosciuti come titolari di protezione internazionale perché esistono delle condizioni di persecuzione che sono tipiche e indirizzate alla minoretà bisogna sempre ricordare che la minoretà può essere in alcuni casi il famoso elemento di appartenenza a un particolare gruppo sociale proprio perché in alcuni casi i matrimoni forzati in altri casi la costrizione nell'esercito o addirittura le violenze nei confronti dei minorenni possono determinare il riconoscimento di una forma di protezione con questo chiuso e vi ringrazio per avermi dato una scusa per mettere il rossetto allora grazie a te Eugenia e stoppare la lo schermo la condivisione schermo e siccome sono già le sette dieci e diciamo che nessuno ha fatto domande proprio specifiche sui minori stranieri non accompagnati possiamo anche chiudere e vi ringraziamo e il prossimo incontro è giovedì prossimo e colgo l'occasione per segnalarvi un altro incontro che sarà lunedì che realizziamo all'interno della diciassettesima settimana di azione contro il razzismo quindi il tema saranno discriminazioni e ordinamento italiano trovate tutte le le informazioni sul nostro sito comunque anche c'è l'evento facebook dove trovate il link per registrarvi che comunque vi invio qui l'evento facebook e da lì trovate tutto e comunque vi daremo le indicazioni anche per mail inviando il materiale grazie Emilia posso dire soltanto una cosa? per chiunque volesse approfondire il tema dei minori stranieri non accompagnati vi invito a vedere la pagina del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che fornisce moltissime informazioni sul punto benissimo arrivederci a tutti grazie 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 mille a questo punto ti saluto ciao e già ora chiudo anche io ciao buona serata grazie a tutti